Ciao ragazzi giovani, bentornati sul canale di Enzo, rieccoci qui in Paraconenzo, mi raccomando, non ti perdere neanche una puntata. Ragazzi, oggi parleremo di un argomento molto caro a tutti noi, ovvero l'autotune, questo fantomatico autotune che ormai usano tutti e quasi tutti sanno usare. Non tutti purtroppo lo sanno usare bene, questa è anche una grande verità, non tutti lo sanno usare bene l'autotune. Allora, andiamocelo a guardare un attimo, andiamocelo a guardare, questo qua è il nostro carissimo autotune, bel, carino, elegante, giggino. Allora, prima cosa che balza all'occhio sono queste quattro manopole, quattro manopole. Però non vi fate ingannare dalle quattro manopole, perché la prima cosa che dobbiamo andare a verificare quando apriamo l'autotune è la scala cromatica, la tonalità. Queste lettere fantomate, che cosa sono queste lettere? Sono in pratica la tonalità con cui l'autotune vi andrà a correggere la voce. E tu dici Enzo, ma io non capisco niente di ste cose, come devo fare? E questo è un problema, perché io sento sempre, più spesso, canzoni con l'autotune sfasato. L'autotune messo proprio a cazzo, cioè è proprio sbagliatissimo, ragazzi. Proprio, tipo, il beat ha una tonalità in sol e l'autotune è impostato sul do, perché poi la maggior parte della gente lo lascia così. Quindi, come sta quando tu apri, di base sta impostato su do, scala cromatica. La gente non sa neanche che esiste una scala maggiore e minore. Vabbè, poi ce ne stanno 3.800, però le principali sono maggiore e minore, no? La maggior parte della gente lo lascia così come sta, cromatic. Invece è sbagliato, è sbagliatissimo. Allora, quindi la prima cosa da fare è sistemare la scala, cioè capire che tonalità è il beat su cui andiamo a registrare. E questo come ti fa? Ho fatto un video a parte per capire la tonalità del beat su cui andiamo a registrare. Quindi, ragazzi, prima cosa importantissima. Faccio un esempio, andate a registrare su un beat in re minore. La tonalità del beat è re minore, voi dovete andare a impostare re minore. Questa è la scala inglese, quindi da C a B. La C è il do, D è re, è mi, fa e fa, G è sol, A è l'A e B è il si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Vabbè, dai. Quindi andiamo a impostare il re minore. Così, vedi? Così tu registrerai tranquillamente sul beat che hai scelto in re minore. Vabbè, ok, passiamo oltre. Ok, dopo aver detto questo possiamo passare anche alle quattro manopole. Cosa sono? Retune speed, la velocità con cui l'autotune vi andrà a correggere la voce. Quindi più questo valore si avvicina allo zero, più aumentate la manopola e meno sarà il tempo di reazione. Infatti questo valore numerico qui in basso sono i millisecondi, i millisecondi di reazione dell'autotune. Quindi zero vuol dire che diventi un robot. Cioè l'autotune ti corregge in tempo reale. Vediamo se ho una... Aspetta, aspettami un attimo. Vediamo se ho una... Una traccia audio da usare. Ok ragazzi, allora ho appena registrato un fantastico audio per fare questa prova. Allora, l'audio fantastico è questo. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Ok, questo è senza autotune, senza niente. Mo' attiviamo l'autotune. Lo attivo a zero, al massimo. Retune speed, sentite com'è? Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Sentite, l'effetto è robotico e l'autotune agisce in tempo immediato, in tempo zero, in tempo reale, quindi l'effetto è molto robotico. Io consiglio di usare un valore tra 5 e 10 per chi fa trap, insomma, per chi vuole usare l'autotune, però a livello... In una maniera un po' più leggera. Proviamo a 5, sentiamo come... come va, come va. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Senti, è già un po' più naturale. Proviamo a 10. Dovrebbe essere ancora più naturale, ancora più morbido. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Ancora più naturale. Io lo lascerei tra i 5 e 10, questo valore qua. Poi, seconda manopola è Flex Tune. Questo qui ammorbidisce ancora di più le note, quindi dà ancora di più un effetto naturale. Se vogliamo dire arrotonda, arrotonda le note, diamogli un valore non troppo alto. Sentiamo. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Proviamo con un valore più alto. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Ancora più naturale. Attivando il Flex Tune possiamo anche mettere il Red Tune Speed a 0. Velocità a 0 perché sentite, sentite l'effetto. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Anche se a 0 l'effetto dell'Auto Tune dà quel retrogusto di robotico, di qualcosa di robotico. Quindi, secondo me, la cosa migliore da fare è impostare un livello tipo a 5 del Red Tune Speed, della prima manopola, è un valore basso di Flex Tune. Io di solito lo uso così l'Auto Tune. Tipo un valore del genere. Così. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Perché comunque mi piace quell'effetto che dà l'Auto Tune. Si deve sentire. Poi se voi invece volete cantare in maniera più naturale possibile, allora a quel punto potete anche lasciare il Red Tune Speed a 0.5 e a mettere a manetta il Flex Tune e vi dà un effetto più naturale possibile. Sembra quasi non ci sia l'Auto Tune. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Senti? Quasi quasi sembra non ci sia l'Auto Tune. Vabbè. Poi qua, queste due manopole, vi dico la verità, le uso poco e niente. Il vibrato e l'Humanize. L'Humanize. Add realism. Vedi? Aggiunge realismo. Ma già il Flex Tune li dà comunque. Quel realismo che secondo me può bastare. Comunque andiamo a sentire cosa fanno questi tasti, queste manopole. Natural vibrato. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. A me non piace. Non lo so, crea degli artefatti questo natural vibrato. A parte che aggiunge o toglie del vibrato che sinceramente lo trovo abbastanza inutile. Poi magari devi essere anche tu a dargli un po' di vibrato prima di tutto. E lui te lo accentua o te lo diminuisce l'effetto del vibrato. Però comunque ce lo devi mettere tu nel cantato un po' di vibrato. E poi c'è l'Humanize che sinceramente non lo uso proprio. Mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Non è niente di più del Red Tune Speed. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. È diciamo un complemento del Flex Tune per quanto mi riguarda. Proviamo ad aggiungere un po' di Flex Tune. E l'Humanize a manetta. Sentiamo cosa esce fuori. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Il risultato è abbastanza buono. L'Humanize sinceramente io non lo uso proprio ragazzi. Non mi serve proprio. Io mi fermo qui a Red Tune Speed e Flex Tune. Un valore del genere per me va più che bene. Beh ragazzi penso di avervi detto tutto su questo autotune. Per chi magari non sapesse muoversi all'inizio potrebbe essere un buon punto di partenza. Teoricamente dovremmo anche impostare l'Input Type. Ovvero il tipo di voce, il nostro registro vocale. Lo potete fare anche premendo questo tasto Learn e cantando. Tipo io con il mio audio qui potrei anche riuscire a... Fammi vedere. Sì. Dovrei... L'autotune dovrebbe riuscire a capire la mia voce come impostarla. Sentiamo. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Vediamo cosa mi dice. Non dir... Ora mi dirà che tipo di registro vocale. Lo mail. Infatti la maggior parte di noi saremo lo mail. Perché non siamo né soprano né... Non siamo niente. Noi siamo dei minchioni che aprono la bocca quando cantiamo. Quindi siamo dei lo mail. E lui ti imposta il registro vocale adatto. In modo che l'autotune lavori per quel tipo di voce. Il risultato quindi è questo. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Bello. Bello. Ragazzi se avete domande. Io sono qui per voi. Se ho sbagliato qualcosa. O soprattutto posso anche imparare io qualcosa da voi. Se c'è qualcosa che... Vi ripeto io non sono un esperto. Non sono un mago. Non sono un maestro di musica. Quindi magari ci sono cose che io non so dell'autotune. Ci sono cose che so di questo autotune di cui non ho parlato in questo video perché non mi interessa. Tipo che ne so questo tasto formant ti va a modificare il tuo registro vocale. Te lo fa diventare... Ti faccio vedere. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Vedi? Ti modifica la voce. Non dirgli mai che siamo... Queste sono cose che possono interessare per degli effetti particolari. Comunque interessanti. Ci potrebbero stare gli effetti vocali su alcuni tipi di canzone. Tipo lo usa tanto anche liberato questo effetto. Oppure c'è il traspose che ti va a modificare proprio le note. E ti alza proprio la nota della canzone. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Questo ti va a modificare proprio il pitch. Il pitch della tua voce. E quindi diciamo che non ci interessa niente. Comunque queste sono le principali... Le funzioni principali dell'autotune. Le cose che dovete sapere. Ah, altra cosa importante ragazzi. Quando registrate già con l'autotune attivato Sicuramente sentirete un ritardo nell'audio che sentite in cuffia. La vostra voce quando cantate con l'autotune la sentite in ritardo. Cosa dovete fare? Andate sull'ingranaggio qui in alto a destra. E premete Use Low Latency. Lo dovete attivare. Guardate ora è attivato. In questo modo sentirete la vostra voce in live, in diretta, subito. Vai, tutto live. Va bene ragazzi. A sto punto credo proprio di avervi detto tutto. Spero di non aver dimenticato niente. Spero soprattutto si sia visto l'autotune. Che ho visto che c'era il mio faccione sopra. Speriamo si sia visto tutto. Ragazzi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando fatemi sapere se il video vi è stato utile. Se avete domande da farmi. Qualsiasi cosa sono qua a disposizione. Se avete idee per altri video. Facciamo tutto quello che volete ragazzi. Va bene? Un bacio dal vostro Enzo. Ciao giovani. Alla prossima. Ciao.